Signore e signori, allora manca un minuto, questa cosa la faccio da anni, ma quest'anno ancora di più perché ragazzi come sempre l'ultimo giorno di mercato si segue su Sport Italia rigorosamente, manca un minuto esatto adesso, 58 secondi perché ragazzi ci si sfonda sempre con Tancredi Valmeri E quindi ancora una volta, nel frattempo che ovviamente parliamo anche del mercato, parliamo delle ultimissime news, parliamo del mercato della Fiorentina, parliamo anche della Roma perché la Roma è clamorosamente saltato giallo, obiettivi, quando stamattina era uscito già Umers, adesso l'obiettivo è non solo Umers ma anche Hermoso, ma questi due insieme sarà possibile, uno è possibile ma tutti e due insieme Tirate un urlo pazzesco da fuori, comunque sarà possibile qualora uscisse Smalling, intanto 20 secondi, 20 secondi, facci sognare Tancredi, facci sognare, facci sognare Capitano, facci sognare Capitano Comunque potrebbe entrare entrambi, sia Hermoso che Umers ovviamente ci aggiorneremo nei prossimi giorni, 3, 2, 1, la fine del mercato E non hanno preso ancora una volta, l'hanno preso il nostro Tancredi, è finito ragazzi ufficialmente il calcio mercato con la Roma che si ritrova ufficialmente in culata perché non gli hanno preso un centrale Non gli hanno preso un centrale difensivo, siamo passati da Danzo a Jalò, Danzo che è saltato per motivi sconosciuti, teoricamente quelli delle visite mediche Complottismo chiamiamolo così, ma direbbe che si è saltato perché volevano prendere con E e non c'erano i finanziamenti sufficienti per prenderlo Con anche la spesa di Danzo di 25 milioni e quindi è saltata Poi la Roma ha ceduto, come vi ho detto poco fa, 3-4 ore fa, alla Fiorentina ha ceduto Bove Non so perché lo chiamo, Edoardo, ecco, Bove, alla Fiorentina Prestito con diritto di riscatto fissato da circa una decina di milioni Continua a non capire veramente questa operazione, per quanto faccia spazio a Cuni Ma in generale continuavo a capire questa operazione perché ok, Paredes, Ensolefe, Cone Ce n'è un altro di centro cristante che sembra aver litigato, Pellegrini, ma io Bove me lo sarei comunque tenuto E qua nel frattempo su Sport Italia si fa festa per la fine del mercato E comunque io me lo sarei tenuto Bove Una Fiorentina che è stata veramente un fire perché in quest'ultimo giorno di mercato hanno fatto praticamente più colpi Che in tutto il mercato in generale perché hanno preso anche Cataldi, hanno preso un difensore del Belgrano E hanno preso anche Gossens Cataldi arriva in prestito con diritto barra obbligo di riscatto, adesso non mi viene in mente Ma comunque è arrivato là per fare spazio a Foloruncio che doveva arrivare dal Napoli Eravamo ormai un mese circa che trattavano tra Foloruncio e la Lazio Alla fine non arriverà perché il Napoli chiedeva 12 milioni fissi Mentre invece la Lazio ha offerto prestito gratuito con diritto di riscatto Ma che problemi possono avere ragazzi? L'otito male del calcio mi verrebbe da dire E quindi cedono Cataldi e non prendono nessuno al suo posto Poi Gossens ritorna in Italia all'uscita stamattina L'ipotesi che potesse andare ad Atalanta E' saltata prima la trattativa col Bologna Poi è saltata quella con In Turchia se non sbaglio Galatasaray, Fenerbahce Non me lo ricordo E comunque alla fine andrà la Fiorentina come esterno di centrocampo Suppongo nel centrocampo a quattro della difesa tre di Palladino Quindi non ho molto altro da dire Cioè Perisic, ah Perisic verso il Como Clausola teoricamente pagata ma penso che potranno comunque dare i soldi a Perisic E gli dicono dali tu all'Idux Palat Quindi tramite mezze vie diciamola così Dovrebbe arrivare Perisic al Como Finisce il mercato Domani faremo oltre che il Pangellone Cioè non lo so se esce domani il Pangellone Non lo so ma commenteremo senza alcun dubbio McTaminay e Gilmour Quindi ci vediamo ragazzi ovviamente nei prossimi giorni Sempre con la fine del mercato che ormai è finito E Chelsea, Ozyman non si è fatto niente A meno che non arrivi la rabbia ma non si farà niente Io comunque vi saluto Ci vediamo Ciao